sono matteo bruno in arte cane secco il nome è bizzarro però è così e ho un canale youtube che ha insomma abbastanza follower seguaci e mi hanno chiamato per raccontare sostanzialmente cos'è successo nel passaggio da camera mia dove faccio i video con la telecamerina a altre esperienze di tipo lavorativo che faccio spesso adesso come direttore della fotografia magari su dei set su delle web series e il succo della giornata sostanzialmente è la condivisione come sul web tu metti un commento perché vuoi parlare con una personalità del web qui dal vivo puoi alzare la mano e dire senti scusa ma come funziona questa cosa e come fai a fare questo tipo di lavoro perché stai facendo questo e quindi è una giornata di scambio il centro del discorso che ho fatto con ogni persona è focalizzato su cosa succede dopo la scuola cioè tu stai facendo uno studio per diventare regista direttore della fotografia attore quello che è ma poi dopo che succede che faccio e quindi in questo mi chiedono spesso ma il web come può essere utile per portare avanti un progetto e io più che raccontare la mia storia non posso fare